Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Ultime ore di trattative per la riconferma di Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione Europea. Oggi il voto, le parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Tripoli, gli immigrati irregolari sono nemici di quelli legali, dobbiamo combattere assieme, ha detto i trafficanti di esseri umani. E poi il caso, la vicenda legata alla corruzione a Venezia, il incomune, la protesta di attivisti e cittadini, il sindaco Brugnaro indagato, ha disertato la riunione del Consiglio. Sono queste alcune delle notizie che troviamo sulle prime pagine dei giornali e certamente all'interno dei giornali oggi, giovedì 18 luglio. Come di consueto cominciamo la nostra rassegna stampa dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Von der Leyen alla prova, questo è il titolo principale. Oggi il voto per il BIS. Tegola dalla Corte Europea sui vaccini Covid. Non ci fu trasparenza attesa per il discorso, telefonata con Meloni che chiede garanzie per l'Italia. Armi a Kiev, divisi, alleati e opposizioni. E leggiamo le prime battute del pezzo di Francesca Basso. Previsto oggi alle 13, il voto per la fiducia al BIS di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. Attesa per il discorso in mattinata che traccerà l'indirizzo politico e che potrà ancora essere rivelatore su che cosa fare nel segreto dell'urna. Tutto proprio. Mentre la Commissione von der Leyen è stata condannata per scarsa trasparenza sui vaccini anti-Covid. Si tratta ancora di Meloni chiede garanzie per l'Italia, mentre gli alleati, ma anche il PD, si dividono sulle armi a Kiev. Poi Renato Franco, Malpensa, e Rai, Berlusconi Junior contro la Lega, una nuova Forza Italia. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi parla di politica e nel mio DNA l'ho ereditata da mio padre. Su Malpensa e Canonerai attacca la Lega, poi esorta Forza Italia a rinnovarsi la nuova sfida e a trarre i moderati. In spalla la politica estera, ora Zelensky può sorprendere i suoi nemici. L'invasione russa, ora serve un nuovo Zelensky. L'altro giorno il presidente ucraino ha rilanciato la proposta di tenere una seconda conferenza per la pace, ma stavolta con la partecipazione della Russia e quindi anche della Cina. A centropagina, la foto, il discorso del re in chiave laborista Carlo presenta l'agenda di Starmer, stop ai lord ereditari. In foto vediamo proprio il re Carlo III e la regina Camilla sul trono neogotico alla Camera dei Lord dopo la lettura del discorso di apertura del Parlamento. Treni di Stato e linee dura sui migranti, via i contratti di lavoro più precari, ma niente populismi. Ecco, nel giorno del compleanno di Camilla, il discorso di re Carlo III in chiave laborista letto nella secolare cerimonia a camere riunite e che detta l'agenda del governo Starmer. Nel taglio centrale, in spalla, Nord, Nordio, sul caso Toti, carte dei giudici, non ho capito nulla. Corruzione in Liguria, Nordio attacca i tre giudici del riesame di Genova che hanno confermato gli arresti domiciliari a Toti. Ho letto la loro ordinanza con attenzione e non ho capito nulla. Esplode il caso Venezia. Agevolare chi investe misure oltre il PNRR parla Orsini, il presidente di Confindustria. Le imprese italiane stanno bene, meritano un otto e sono pronte a ripartire, dice Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Ma il governo deve sostenere chi investe. Occorrono misure che vadano oltre il PNRR e aggiunge un confronto con i sindacati. Cominciamo dalla sicurezza. Passiamo ad avvenire il giornale dei Vescovi italiani. Segnale all'Ucraina, questo è il titolo principale. Il primo atto dell'Aula di Strasburgo è una risoluzione pro Kiev, sia a larga maggioranza ma con malumori per il tono militarista. Attacco Orban non rappresenta l'Unione. Oggi il voto sulla conferma di Von Underline, trattativa con Meloni sul ruolo di Fitto e i Conti. Leggiamo le prime battute del pezzo di Giovanni Maria del Re, il primo atto della nuova legislatura del Parlamento europeo e di alto valore simbolico. Una risoluzione che ribadisce l'appoggio a Kiev e allarga il perimetro del supporto militare. Il gesto, giunto proprio nel momento in cui le novità americane sembrano aver smosso le acque in vista di un possibile tavolo per la pace, passa a larga maggioranza ma vede gli italiani divisi con il no di Lega e Movimento 5 Stelle e con un paio di astenuti nelle file del PD. Cecilia Strada e Marco Tarquinio, ex direttore tra l'altro proprio di avvenire. Contrari al tono giudicato troppo militarista della risoluzione. Oggi il voto per la conferma di Ursula von der Leyen, trattativa fino all'ultimo con i conservatori, compresa naturalmente Giorgia Meloni. A centropagina sbarchi Tunisi batte cassa, già esauriti i fondi dell'Unione europea. Meloni conferma la linea italiana a Mattarella siamo tutti un po' migranti. I migranti illegali sono nemici di quelli legali, argomenta la premier italiana Giorgia Meloni intervenendo a Tripoli nel corso del Transmediterranean Migration Forum. La presidente del Consiglio è in Libia per la terza volta accompagnata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Di fronte alle delegazioni di diversi paesi mediterranei e subsahariani ribadisce la linea italiana. Un allarme è arrivato invece dal primo ministro tunisino. Gli aiuti forniti non sono sufficienti per affrontare il problema, avverte esortando l'Unione europea a stanziare altri fondi. A marzo, va ricordato, Bruxelles ha già erogato 150 milioni come parte di un accordo volto a combattere l'immigrazione clandestina. Intanto l'ONG mediterranea ha denunciato la guardia costiera libica. L'impegno della Chiesa nel cantiere della pastorale è priorità alle aree più isolate. La necessità, in molti casi anche l'urgenza, non è più differibile di avviare una pastorale il più possibile idonea alle aree interne. È stata al centro della due giorni tenutasi a Benevento con la partecipazione di 30 vescovi di 14 regioni. Conclusasi ieri con l'intervento dell'arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. Sempre a centro pagina, laurearsi conviene, scendono i NIT, il rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e dunque sui giovani. Poi, titoletti, Abbe Pierre, accuse di violenze e abusi e il fondatore di Emeus. Carceri Nordio annuncia l'arrivo del commissario e dunque le nuove strutture e poi anche la Sardegna vuole il voto sull'autonomia. Sì, al referendum. E passiamo alla Repubblica, al giornale fondato da Eugenio Scalfari, a centro pagina il titolo principale sui cosiddetti tormenti della maggioranza. Così vengono definiti Pier Silvio scuote la destra. L'amministratore delegato di Mediaset, figlio di Berlusconi, Forza Italia, non attrae i moderati e la Lega sul canone fa pasticci. Gelo dal carroccio, si confronti con noi, imbarazzo di italiani, siamo in sintonia. Poi la telefonata di chiarimento. Unione Europea, Ursula, alla prova dell'aula, apre ai Verdi ma tratta ancora con Meloni. Pier Silvio Berlusconi agita Forza Italia e gli equilibri della maggioranza. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset critica Salvini sul canone Rai e sfida il partito fondato dal padre Silvio. I moderati in Italia sono la maggioranza, però non hanno qualcuno in cui si riconoscono veramente. Oggi il voto del Parlamento europeo su Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Il commento di Francesco Bei, moderati in cerca d'autore. L'onda generata dalle parole di Pier Silvio si è infranta sul centro-destra, investendo tutti i partiti della coalizione. E poi, diritti, la svolta della consulta, un passo avanti sul fine vita. Nel taglio alto invece oggi la Repubblica propone l'intervista a Jimmy Barbecue, il signore delle gang che hanno in pugno Porto Prens. Il destino di Haiti è nelle mie mani, non abbiamo paura di niente, vogliamo abbattere un sistema criminale, dice. Trattino con noi o sarà guerra. E poi aggiunge combattiamo a piedi scalzi e torso nudo ci proteggono il voodoo, gli amuleti e i nostri avi. In spalla agli Stati Uniti, Biden ha il Covid e annulla i comizi, Trump torna alla guerra sui dazzi. E poi il pezzo di Gianni Riotta dal Milwaukee. Occhi su Lara, donna al comando. La nostra famiglia ha subito minacce di morte, ma nulla prepara una nuora a un killer che cerca di uccidere una persona cara. Nulla prepara una madre a precipitarsi al telecomando, allontanando i bambini perché non vedano immagini del nonno che bruci no, poi la loro memoria per tutta la vita. Quando Lara Trump, moglie di Eric, terzo genito di Donald Trump, ha ricordato i delegati della Convenzione Repubblicana l'attentato al suocero, il silenzio è sceso sulla chiassosa Panther Arena di Milwaukee. Nel taglio basso, l'immagine, l'assiste e il gol che fa sognare alla sinistra l'abbraccio tra Matteo Renzi e Dell'Ischlein. E poi gli spettacoli, Dalla De Gregori e il nastro ritrovato di Banana Republic. Passiamo alla stampa, il giornale di Torino, Verdi con Ursula, i dubbi di Meloni, la Premier sente von der Leyen, troppe aperture green così mi mette in difficoltà e sonda Salvini. Oggi il voto all'Europarlamento, l'incognita dei franchi tiratori, ma la maggioranza per il bis sembra ampia. L'intervista di Mario De Fazio e Dell'Ischlein per colpa di Toti, la Liguria, e agli arresti, dichiara la segretaria nazionale del Partito Democratico, che oggi sarà a Genova per partecipare alla manifestazione Liguria Diritto al Futuro, in Piazza De Ferrari dove si affaccia al Palazzo della Regione. E poi il retroscena Renzi abbraccia Ellis Line non solo allo stadio, il pezzo di Francesca Schianchi. Il commento invece è affidato a Flavia Perina, il fatal bivio che Giorgia non riesce a sorpassare e poi a centropagina la politica estera. Il potere di Lara, la nuora di Donald accende la folla ed è sempre più influente, Scalzate, Ivanca e Melania. E sempre in spalla la politica estera, Merkel ha 70 anni, ma quanto ci manca il pezzo di Francesca Sforza. In spalla destra il caso, malpensa Berlusconi, il gelo di Pier Silvio, polemiche fastidiose, serviva più cautela. E poi a Cuneo, la cronaca in gita col centro estivo, Anisa annega a 7 anni. Era una giornata di gioia, festa divertimento con tanti bimbi dell'estate ragazzi al parco acquatico. Si è trasformata in un'immane tragedia, una bambina di 7 anni che scompare nel primo pomeriggio e viene ritrovata annegata quasi tre ore dopo, al fondo di un biolago baleabile. Poi il racconto, io nelle chat nazi sono finito in analisi. Tra dieci giorni compie 21 anni, ha un libro di algebra in mano, alle 4 di pomeriggio l'esame cammina lento nel corridoio del Politecnico, vuole diventare ingegnere meccanico e parla come un filosofo. Quella chat era una bolla, io dentro, il mondo reale fuori, fin quando non è arrivato lo schiaffo. E passiamo alla prima pagina del resto del Carlino. Von der Leyen caccia l'ultimo voto. Commissione oggi si esprime, l'Europarlamento incognita, franchi tiratori tra i popolari, la condanna della Corte Europea per i vaccini. Intervista a Enrico Letta, auspico che Meloni di Cassia Ursula, l'astensionismo isolerebbe l'Italia, non siamo l'Ungheria. A centropagina Berlusconi, la politica nel DNA, Pier Silvio a tutto campo, ma continuerò a fare l'imprenditore. Attacco a sala su Malpensa, Tajani in perfetta sintonia. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, a tutto campo nella serata di presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Attacca a sala su Malpensa, si schiera sui diritti civili, smentisce una sua eventuale discesa in campo, ma dice, il fascino della politica fa parte del DNA di mio padre ad appoggiare Pier Silvio e Antonio Tajani e in perfetta sintonia con quello che diciamo. In spalla la politica estera, Biden ammette, mi ritiro solo se me lo dice un medico, Trump avanti, il nodo finanziatori. Joe Biden afferma in un'intervista che sarebbe pronto a considerare il ritiro in caso di un problema medico, intanto Trump è in vantaggio nei sondaggi. Poi piano casa, appartamenti anche micro, soglie più alte per le sanatorie e nel taglio basso il labor di Reccarlo, il discorso apre l'era Starmer e la cronaca dall'Italia. Morti due vigili del fuoco volevano salvare una famiglia dalle fiamme, tragedia nel materano, sono caduti in un dirupo. Infine messi in adenaro il nuovo covo caccia all'archivio del boss. Passiamo alla prima pagina dell'Eco di Bergamo, tecnico folgorato dall'alta tensione, papà di Ardesio muore in Svizzera a 44 anni, undicesima vittima sul lavoro da inizio anno. A centropagina ZTL, ecco cosa sapere per entrare senza multa nella città alta. Infine tagli alle liste d'attesa, nodo personale. Ancora la prima pagina della provincia di Como, regione basta liste d'attesa, entro l'anno 114 mila esami, Bertolaso chiede agli ospedali un gigantesco programma di recupero. Il taglio alto invece, la cronaca non riemerge dopo un tuffo, morto un inglese di 22 anni, è stato ritrovato intorno alle 19.30, il corpo senza vita del turista inglese di 22 anni disperso nel lago dalle 15. Il giovane e una ragazza dopo il tuffo da una barca si sono trovati in difficoltà, lei è stata salvata da un natante, il ragazzo è stato inghiottito dal lago. Passiamo alla prima pagina della provincia di Lecco. Anche in questo caso la cronaca in primo piano cade dal tetto sul cancello, morto ex consigliere. La tragedia ieri mattina a Beverate, l'uomo è precipitato da 6 metri. Nel taglio alto, travolse i clienti del bar, arrestato il guidatore e baby gang a Mandello, più vigilanti e divieti. Nel taglio basso mori a Celentano, 60 anni sposi. Una fotografia, leggiamo, una fotografia in bianco e nero scattata nel giorno delle loro nozze avvenute, il 14 luglio del 64. Nessuna didascalia, solo un cuore rosso è il numero 60, con un post che nella mente ti fa canticchiare subito le note di La Coppia più bella del mondo. Adriano Celentano ha voluto celebrare i 60 anni di matrimonio con sua moglie Claudia Mori. Star da milioni di dischi venduti, attore e conduttore, Adriano Celentano, il molleggiato che da anni risiede nella sua villa a Galbiate, ha affidato alla sua pagina Instagram dove è registrato come Celentano inesistente gli auguri per l'importante anniversario di nozze. Ancora la prima pagina della provincia di Sondrio, quasi 100 mila prestazioni, la sfida per ridurre le attese. Questo è il titolo principale, gli obiettivi della regione entro fine 2024, fissati gli esami nel dettaglio. E poi la cronaca giudiziaria all'avvocato che sparò alla compagna, niente più carcere e torna a lavorare. Andiamo a sud, lo facciamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, scandali al sole, Barletta, affari d'oro nel centro per Massaggiotto, l'inchiesta di Bari, elezioni finite, Sandrino è libero. Nel taglio centrale, la Corte dei Conti, le leggi pugliesi senza copertura, una buona fetta delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2023, priva di copertura finanziaria o attinge risorse da capitoli non utilizzabili, un problema che riguarda soprattutto le norme in ambito sanitario, ma anche gli immancabili trasferimenti disposti per Arif e consorsi di bonifica. E dunque, avverte la Corte dei Conti, la regione rischia di non ricevere la parifica, ossia l'approvazione del bilancio consuntivo. In spalla le cronache, Nova Siri, morti due vigili del fuoco, erano accorsi a salvare una famiglia e poi Ilva, nuova accusa per la Morselli, la procura, associazione a delinquere. All'interno ancora la cronaca, altre due vittime del mare in Salento e avvieste polemica sull'elisoccorso, il caldo non molla, la presa, poi rischio fenomeni estremi, infine trani fiumi di droga dalla Spagna, emesse 47 ordinanze cautelari. Rimaniamo a sud, lo facciamo con la prima pagina dell'edicola del sud, morti per salvare una famiglia, l'Italia piange, i vigili del fuoco eroi, Giuseppe Martino e Nicola La Salata stavano spegnendo un incendio nel materano, il cordoglio delle istituzioni. A centro pagina il sogno, esibirmi al Petruzzelli col mio docufilm, lo realizzerò. Il premio a Lino Banfi che è attore certamente ed è uno degli ambasciatori della Puglia nel mondo e a proposito di questa regione, in Puglia tutti pazzi per calcio e concerti, il dossier SIAE, in Puglia cresce la spesa per eventi culturali e sportivi, lo rivela il dossier della SIAE, a catalizzare l'attenzione sono partite del Bari e concerti negli stadi. Poi in spalla l'inchiesta fiumi di droga dalla Spagna, arrestati in 39, accoltellò l'ex condannato a 16 anni, il caso Colavitto e poi batta a luci rosse sigilli al centro massaggi. Nel taglio basso giunta ponte e risorse per gli alloggi, parla il neosindaco di Bari, Vito Leccese e la cronaca giudiziaria Sandrino Cataldo torna libero, ruolo politico ridimensionato e dunque la vicenda che riguarda la compravendita di voti. Andiamo a Roma, lo facciamo con il messaggero, Meloni voto a Ursula sul filo, oggi von der Leyen chiede la fiducia all'Europarlamento, Fratelli d'Italia dipende dal programma, su Kiev conservatoria sinistra con la maggioranza, emergenza migranti, la premia in Libia. Nel taglio alto microabitazioni e sottotetti, la svolta salva casa, il governo blinda il provvedimento ponendo la fiducia, condizioni meno stringenti per l'abitabilità dei microappartamenti, cambi di destinazione d'uso più semplici e sanatorie per piccole difformità. Il governo mette la fiducia sul DL salva casa che incasserà domani l'ok della Camera e poi il cantiere della manovra, pensioni e Giorgetti frena sugli scivoli, la crisi demografica pesa troppo e la polemica, Rai e aeroporto. Pier Silvio punge, la Lega risponde. A centropagine il discorso labur del re apre all'Europa, l'agenda di Starmer letta da Carlo, meno barriere con l'Unione e Michel, vent'anni, al killer minorenne, merito quella pena. Roma sentenza sul caso causo, il giovane scrive alla Corte e la famiglia ringrazia la PM. Ho commesso un reato gravissimo e voglio pagare per quello che ho fatto. legge una lettera alla Corte il ragazzo cingalese che il 28 giugno dell'anno scorso, quando era 17enne, ha ucciso a Roma Michel Causo. Il tribunale lo ha condannato al massimo della pena, ossia vent'anni di carcere. Passiamo alla prima pagina del mattino. PNRR, altre Caivano crescono, rinasce il Bronx di Castellammare, case, parcheggi e aree verdi nell'ex fortino dei clani. Il cambio di paradigma, Napoli 30 milioni per restaurare chiese e campanili. Si parte da San Pietro Martire. A centropagina Capri, ingorgo in mare, un cordone antibarchi, ma è scontro tra i sindaci dell'isola. Poi Ursula per il sì di Roma, è decisivo il programma. Fiducia al fotofinish, ultime trattative, contatti tra Meloni e la Fonderlaien. E dunque si parla delle nomine dei vertici europei. Nel taglio basso, Matera e i due pompieri eroi, morti per salvare una famiglia, precipitati nel dirupo durante un incendio. Chiudiamo questa rassegna stampa con il quotidiano del Sud, autonomia alla virata di De Luca, cambio di rotta del governatore, frena sul referendum ma vuole modifiche alla legge. E poi Ursula Bis, Meloni al bivio, la maggioranza nel caos. Con questo titolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. A me non resta altro che augurarvi buona giornata e buon proseguimento con i programmi della rete.